signori io penso che tutto l'olimpico oggi debba applaudire la cremonese ragazzi che partita dei grigiorossi di alvini che già sapevo che avrebbero espresso un bel gioco perché l'allenatore che esordisce quest'anno proprio in a sicuramente uno che anche nelle sue idee ha questo andarsela giocare in tutti i campi grande organizzazione grande proposta e anche grande tenuta fisica ma soprattutto mentale perché di solito queste partite quando la grande squadra le sblocca dopo che magari la piccola in questo caso la cremonese ha fatto anche meglio dal punto di vista della proposta di solito la squadra più debole crolla invece no quindi una squadra che sta bene fisicamente sicuramente la cremonese di solito le neopromosse cercano di fare una preparazione atletica per partire subito forte perché è importante già racimolare punti che poi ti danno fiducia per il prosieguo del campionato è chiaro però ho visto proprio una squadra anche mentalizzata a giocarsela fino alla fine nonostante le avversità un episodio un calcio d'angolo bravo pellegrini a battere le smalling sicuramente uno schema cercato e studiato poi la roma sappiamo da calcio piazzato l'anno scorso e anche quest'anno già lo sta ribadendo sono molto bravi e fanno bene perché giustamente le partite bloccate difficili in cui anche a volte non giochi benissimo si risolvono grazie anche a questi episodi che non sono sicuramente un caso poi è normale che non ti andrà sempre bene e servirà poi di più no talvolta una proposta di gioco migliore comunque romarche monese l'avete capito 1 a 0 gianorossi a punteggio pieno andranno all'allianz quindi di bala ancora secco però di bala le due prestazioni o le valuto positive sia alla re che sia oggi nonostante si sia mangiato un gol a porta vuota che si non era facilissimo perché la palla gli arrivava forte sul destro però da uno come di bala ci aspettiamo gol però di bala lo vedo bene perché mi pare faccia da collante tra attacco e centrocampo lo fa giocare diciamo dietro le punte no che erano oggi zaniolo e abram poi zaniolo è uscito per un infortunio alla spalla quindi di solito la spalla e non so ma io un paio di mesi ipotizzo però la spalla è comunque delicata cioè non è un infortunio gravissimo ci mancherebbe però adesso vediamo comunque il risponso dei test medici degli esami e poi entrato il sharawi che ha giocato molto bene queste secondo me sono le partite del sharawi molto meglio diciamo il il faraone rispetto a zaniolo che ragazzi non ci siamo sto ragazzo al di là della vede la condizione fisica purtroppo è fragile quello lo sapevamo è chiaro infatti quest'anno c'erano alcuni juventini che erano contenti dell'interesse per lui io non li capivo c'è un conto se te lo regalano se te lo danno 10 15 milioni perché a 23 anni ci sta a puntarci ma un giocatore strarotto e che poi inutile lì siccome è un problema anche di allenatore compagni perché non è possibile che zaniolo incontropiede prenda palla è successo nel primo tempo era posizione defilata fuori area aveva tre addosso di balla libero al limite dell'area di regolo lui ha tirato c'è questo ragazzo non vede il gioco quindi questo è un problema suo ovvio però è l'allenatore che deve far migliorare questo aspetto perché la roma gioca in contropiede è chiaro anche quest'anno anche con la cremonese c'è murigno non disdegna anche con la cremonese di lasciare il pallino del gioco a loro merito ai grigiorossi sicuramente però è proprio un tetame tattico della roma lasciare palla agli altri quando hanno palla loro molto ragazzi poco ritmo nei piedi dei giallorossi e gli unici erano un po pellegrini di balla è chiaro quindi giocando in contropiede zaniolo è un giocatore adatto a quel gioco lì è chiaro lo stesso tammi abram un po meno di balla perché di balla secondo me si sfianca giocando così non ce la fa giocare 90 minuti è chiaro infatti poi l'ha tolto ma l'ho visto già sofferente già è calato nel secondo tempo l'argentino però inutile non alza la testa ragazzi zaniolo è chiaro lì è stata una delle poche occasioni della roma nel primo tempo prima ce n'era stata una un bel cross di balla vedete qua comunque di balla le giocate le vede e sa toccare bene il pallone palla pre abram però c'era stato un intervento di valeri di valeri che ha salvato il risultato che giocatore valeri era in ottica lazio tra l'altro lui dovrebbe essere un po laziale un giocatore veramente bravo 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 tanta gamba tanta corsa grande tecnica ha provato anche un tiro nel primo tempo personalità bravo nelle diagonali difensive quindi non solo lazio cosa sta aspettando a prenderlo ma ormai non lo prenderà più giocheremo con marusi ci sai e va bene dormiamo noi verso quegli acquisti comunque poi un'altra occasione è stata quella lì con zaniolo che ha tirato radu che ha parato di bala che poi ha tirato al volo molto bene però radu ha neutralizzato quel tiro e ne ha neutralizzati tanti altri ragazzi che portiere io non so radu al di là di qualche defiance in cui è incappato l'anno scorso e nota tutti al dall'ara con al franchina commessa un'altra grossa però già al franchi aveva calato interventi importanti degni di nota e oggi ancora di più c'è questo ragazzi ha un potenziale enorme ma non sto scherzando sono serissimo deve solo ecco trovare un po più di diciamo di di equilibrio no è chiaro quindi non si può passare da fare magari la parata all'incrocio poi fare le papere c'è il portiere forte quello che non è quello che ti fa il paratore clamoroso ma è quello che non prende mai gol su tiri centrali non fa mai papere deve dare sicurezza anche al reparto è chiaro però la cremonese mi è piaciuta schierata con questo 3 4 2 1 con zanimachi o che re che o che re che uno dei peggiori dietro ad esserse ed esserse e ragazzi inutili giocatori di un altro livello si vedono subito giocava nel feynord l'abbiamo ammirato in conference ha fatto un'azione nelle una giocata nel secondo tempo pazzesca c'è lancio lungo di radu proprio se non vado errato lavoro su mancini stop di petto e girata col sinistro traversa ma poi vabbè appare che mancini ragazzi è un disastro perché i giocatori come essers non devi mai dargli il punto di riferimento perché sennò loro ti fanno da perno ti usano come perno si girano e fanno gol cioè sto qua è proprio uno che fa cosa vuole ti sposta cioè proprio sa usare bene il fisico vede il gioco vede il gioco e poi sa colpire cioè questo è un giocatore che ti porta può portare comunque la salvezza cioè la cremonese io infatti l'ho messa in classifica terz'ultima cioè secondo me retrocede perché poi gli uomini sono quelli però gioca ragazzi cioè poi bisogna vedere ci sono tante nell'arco di un campionato ci sono tanta avversità tante cose però al momento veramente la migliore delle neopromosse proprio c'è proprio un'idea Albini scatenato dettava a tutti i propri i suoi consigli eccetera dettami tattici veramente non è stato fermo un attimo a differenza di Mourinho abbastanza passivo nonostante una Roma ripeto per me molto deludente veramente ma salenitana a Saleno più o meno avevano giochichiato poi sai a Saleno prima partita era anche un ambiente caldo invece oggi mi aspettavo molto di più comunque come ho detto decisa da un cross di Pellegrini molto bello cremonese che difende a zona su due linee c'è il blocco di Mancini perché poi Mancini sappiamo è bravo in quelle situazioni lì Smalling si stacca verso il secondo palo e sperava in un guizzo di Radu però ha colpito bene di testa Smalling è veramente un artista in quelle cose lì e la mette sul secondo palo e forse Radu lì poteva con un guizzo poteva coronare il suo grande match che merita un 7 in pagella poi comunque gran lavoro di Abram un po' impreciso ma grande lavoro e Sarau è entrato bene ha sfiorato quando eravamo 0-0 il gol con un tiro diciamo a giro da posizione centrale appena fuori area sventato da un'unghiata possiamo dire di Radu ecco portiere Romeno che ha giocato molto bene poi comunque Alvini ha provato a vincerla perché è entrato buon aiuto grande tecnica anche lui è entrato c'ha giù che è uno un po' a ruffone però ci ha messo grinta e poi bene i due di centrocampo Aska Shibar e l'altro Pikel che ha sfiorato anche lui il gol e poi anche Vlad Kirich che per esempio è stato commovente benissimo anche quello di destra I1 come si chiama e il Giorgiano è a Scarvilli perché comunque adesso è il periodo dei Giorgiani ok Cavarashcheglia c'è quel ragazzo lì adesso la Cremonese e bene bene Cremonese mi fa ben sperare e la Roma ripeto a parte alcune prestazioni dei singoli anche bene comunque abbastanza Casdorp Spinazzola Spinazzola è venuto anche dentro il campo veramente un funambole sono contento però deve alzare la proposta di gioco è chiaro cioè non basta solo gli uomini forti perché puoi avere Di Balla avere Matici in panchina eventualmente eccetera ti danno tanto è chiaro però serve una crescita secondo me dal punto di vista del gioco dell'intensità del ritmo è chiaro perché la Cremonese ha diretto la manovra per larghi tratti questa sera comunque alla fine Cremonese 0 punti nonostante due bei match in trasferta quindi un inizio anche tosto la Roma 6 però aspettiamo sicuramente test più attendibili signori vi ringrazio like al video iscrivetevi bella